Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha reagito alla risoluzione del Parlamento europeo che condanna l'Ungheria definendola uno scherzo. A Belgrado il premier Maggiaro ha ricevuto l'ordine al merito della Repubblica di Serbia dal presidente Aleksandr Vucic per aver promosso le relazioni fra i due paesi. Lo stanno facendo per la seconda o terza volta, adottare decisioni di condanna dell'Ungheria al Parlamento europeo. Pensavamo che questo avesse un significato, ma ora lo guardiamo come uno scherzo. La risoluzione approvata giovedì alla sessione del Parlamento europeo affermava che l'Ungheria non è più una democrazia a tutti gli effetti, ma una cosiddetta autocrazia elettorale. Il premier ungherese ha anche criticato la politica sanzionatoria dell'Unione europea nella capitale serba. Le sanzioni sono introdotte dal più forte contro il più debole, ma quando si guarda al settore energetico, allora vediamo che noi europei siamo in realtà dei nani che impongono sanzioni al colosso dell'energia. Orban, in un incontro con i simpatizzanti, ha affermato che l'Unione europea comincerà a sgretolarsi entro il 2030 e che da quel momento in poi l'Ungheria investirà più soldi di quanti ne preleva, quindi l'adesione dovrebbe essere riconsiderata. Ha anche affermato che Fidesz potrebbe rimanere al potere fino al 2060 e che occorre preparare i nuovi dirigenti.